Ciao tesoro, benvenuta, ciao Lara, ciao! Benvenuta, benvenuta, stavo aspettando proprio te, nell'artesa avevo questo favoloso lip gloss, lip gloss, lip gloss sulla tonalità di rosa che ho appena applicato anche sulle mie labbra, stavo aspettando solo te che venivi. E realizziamo insieme su di te un favolosissimo make-up, 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 make-up. Io so che tu ci tenevi tantissimo a farti fare un bel make-up per nessun tipo di occasione, ma volevi un bel make-up fatto da me, che sono la tua ASMR artist e make-up artist preferita. E io ne sono onoratissima, anche perché siamo amiche da tanto, quindi... E all'incirca un annetto, tu lo sai, che io faccio ASMR, la ASMR artist. E per me sono sempre alle prime armi, lo sai benissimo, però mi piace tanto mischiare la ASMR con il make-up. La trovo una cosa stupenda perché il make-up è anche il mio lavoro da 3-4 anni, come tu sai. E adesso, adesso andrò a truccarti, a truccarti e a rilassarti, che è la base principale del perché tu sei qui. Quindi, vuoi assolutamente rilassarti. Iniziamo. Allora, hai fatto benissimo ad allegare i capelli, così stiamo belle ordinate e senza capelli sul viso che possono dare fastidio. Quindi, iniziamo un po' dalla skin care, ok? Tu hai lavato il viso con il detergente prima di venire qui da me. Benissimo, bravissima. Allora, adesso mettiamo questo siero della Revolution all'acido aialuronico, che è favoloso. Tu mi hai detto che vuoi il make-up uguale o uguale al mio, sui toni dell'azzurro e senza fondotinta. Cioè, diciamo, vuoi che io ti faccia il mio make-up che stasera ho su, ok? Quindi facciamo tutti gli step che ho fatto io, su di te. Questa boccettina fa un suono meraviglioso. Solo che non è di vetro, ma è di plastica, sotto. Mettiamo quattro gocce di siero, due sulle guancia, una sulla fronte e una sul mento. Ecco qua. E con le mani andiamo a stendere bene bene, con movimenti circolari, il prodotto. Su tutto, 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 tutto il tuo visino, bellissimo. Questo siero è adatto a tutti i tipi di pelle. Tranquilla, non preoccuparti. Stendiamo, stendiamo, stendiamo bene bene il siero. Ok, benissimo. Adesso andiamo ad applicare come contorno occhi. Sempre della Revolution, questo contorno occhi alla vitamina C. Super rivitalizzante, super rinfrescante e idratante. Bellissimo, bellissimo. Io lo sto adorando. L'ho acquistato da poco e lo amo. Eccolo qua. Eccolo qua. Ok, andrò a mettere una pump. Ecco qua. Andrò a mettere una pump e faccio così. E lo andiamo a stendere sotto i tuoi occhi. Sempre tirando in su, ok? E usiamo queste dita qua, gli anulari, perché fanno molta meno pressione e non scavano ancora di più la nostra occhiaia. Quindi andiamo con questi anulari. E poi, con tutte le mie dita, ti vado a picchiettare il prodotto, così. Relax. Rilassati, Lara. Ok, la nostra skin care è fatta. Manca solo la cremina. Che è sempre questa della Revolution con l'SPF 15 Protecting Boost. Anche questa adoro. Mi sto trovando benissimo. Visto che tu hai la pelle un pochettino come la mia, da mista a secca, è ottima questa crema qui. Questa crema qui è ottima, subito si asciuga, subito si assorbe e rimane la pelle morbidissima. Andiamo a prenderne un pochettino e lo mettiamo sulla guancia. Puff, 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 sulle guance, sulla fronte, sul mento. E poi, con movimenti sempre circolari, movimenti circolari, stendiamo tutto, 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 tutto. Il prodotto sul tuo viso. Così da farlo amalgamare, amalgamare bene con la pelle, anche sul collo. Non dimentichiamo mai anche il collo, il collo, il collo, il collo, il collo. Benissimo, ok. Devo dire che anche tu hai una pelle abbastanza perfetta, diciamo, con pochissime imperfezioni, quasi nessuna. A parte qualche provoletto, ma ogni tanto, diciamo, come me, nei momenti non che escono. Allora, andiamo a posare la nostra cremina. Ora, applichiamo sulle nostre labbra, ora sulle tue, questo fantastico burro di cacao della Bioniche, super, 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 super idratante. Ottimo, per le labbra screpolate e secche e anche con spaccature e un burro cacao riparatore. Bellissimo. Andiamola ad applicare. sulle tue bellissime labbra, ecco qua, per idratare bene, 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 bene. Ok, perfetto. E la parte skin care è terminata. Passiamo a riempire un pochettino le tue brow con questa palette in polvere per sopracciglia. Con questo pennellino, che ha uno scovolino super triggeroso. a me rilassa tantissimo, anche a te, sono contenta. Andiamo a prelevare. E' consumatissima perché io ne ho fatte fuori due, immagina, mi trovo benissimo. Andiamo a prendere il colore più scuro e andiamo a riempire le nostre brow negli spazzetti vuoti e andiamo a dargli una forma. facciamo prima la destra, poi facciamo la sinistra. Poi, con questo scolino triggeroso, le andiamo a pettinare facendo up up e rimuovendo un po' di prodotto in eccesso. Up 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 ok, perfetto adesso come primer occhi non andrò a usare un classico primer ma andremo a usare questo correttore chiarissimo del W7 HD Concealer andremo a metterlo sulle nostre palpebre poi prendiamo la nostra Beauty Blender di fiducissima piccolina, morbidissima la nostra Love X e tamponiamo e stendiamo bene bene il nostro Concealer che funge da primer lo stendiamo bene bene con questa Love X mai tirare il prodotto né il correttore, né il primer barra correttore né sotto gli occhi, né sopra gli occhi mai, sempre picchiettare picchi, 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 picchi picchi, picchi, picchi picchi, 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 picchi ok, benissimo ho portato con me ho portato ho preso qui dalla mia make up collection tutte e tre le mie fantastiche ciambelline ciambellose come io chiamo le mie fan che tanto amo le ho portate tutte e tre per fare un po' di trigger prima di truccarti però andremo a usare questa qui azzurra che ho io sugli occhi dai toni azzurri che è fantastica sono tutte e tre fantastiche andiamo a squishare un po' perché queste ciambelline hanno una particolarità queste palette ciambelline sono della make up per se vuoi saperlo sono della make up revolution italia le ho prese e sono della i love revolution e le trovi di qualsiasi colorazione adesso le hanno fatte anche ad hamburger sempre squishose sopra sotto hanno la palette ed è dura dove contengono e hanno lasciato sopra hanno fatto questo squishy ad anazza ciambelline che è adorabile è adorabile e fa un suono troppo squishoso troppo bello e io l'ho presa una rosa una azzurra e una viola e adoravo questi colori ma adoravo 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 e anche tu lo so anche tu sei una mia amica ma sei anche una mia fan lo so molto accanita per questo stasera ho deciso anche io di truccarmi così e di truccarmi con una delle ciambelline e poi sono bellissime sono super pigmentate sono fantastiche allora te le faccio un attimo vedere faccio vedere a tutti allora questa acqua viola con gli zuccherini sopra questa fantastica ciambellina senza buco chiusa è tutta 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 viola scimmerini qui portano uno specchietto eccolo qua e questi sono i colori tutte le tonalità del viola viola scuro lilla gligine tutte tutte le tonalità del viola eccola qua fantastica molto molto bella anche questa questi sono i colori che io adoro poi c'è questa rosa ciambellina col buco classica ciambellina dai toni del rosa e ve la faccio vedere e te la faccio vedere eccola qua in mezzo un fantastico appunto luce sempre con i riflessi rosa e panna un rosa chiaro un rosa antico un fragola e un fucsia scuro diciamo e anche questo è un fucsia fragola bellissima anche questa passiamo la nostra protagonista io li ho applicati tutti 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 i colori tutti quanti che sotto al sopracciglio ne ho messo uno scimmerino chiarissimo che è un mix tra un violetto non si vede non so se si vede se tu riesci a vedere bene si perché sei molto vicino a me ma a casa non vedono nel video però ne ho messo uno davvero 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 bellissimo che dà molta molta luce sotto all'arcata sopraccigliare che è importante bello sfumato sfumato ora andrò a fare la stessa cosa con te rimetto gli occhiali per la cronaca sono andata a raccambiarmi gli occhiali sì 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 quindi settimana prossima mi vedrai e mi vedrete con occhiali nuovi perché questa ho montato un raccello da molti anni e un annetto fa non ne ho metto amici non me ne accorsi amici sedetti sopra e meno male che sono tipo flessibili e riuscii ad aggiustarle da sola ma e quindi ho deciso di cambiarle i vetri si sono tutti graffiati e ho cambiato la montatura sarà una bellissima montatura più doppia sempre diciamo come spessore un po' più doppio diciamo questa grandezza qua giusto un pochettino un pochettino più grande perché è più doppia ripeto e sarà sui toni del viola e del rosa tipo maculata qua avanti bellissima della Fendi era un'informazione che volevo darti e darvi andiamo a prendere questo pennellino di Nabla che si chiama Soft Tab e Smudge di un set di pennelli da 6 di Nabla che io uso sempre questi sono i miei fidatessimi pennelli e andiamo a prendere questo azzurro matte lo andiamo ad applicare su tutta la palpebra togliamo l'eccesso e applichiamolo su tutta la palpebra destra come base e su tutta la palpebra sinistra e picchiettiamo anche il prodotto perché questo è un pochettino pastuso ma si stende benissimo solo all'inizio quindi ok benissimo adesso prendiamo questo pennello fluffy fluffy da sfumatura pointed crease si chiama e andiamo a prendere questo colore molto molto scuro il più scuro della palette e lo andiamo a mettere all'estremità dell'occhio per creare una sorta di smokey quindi questo è sui toni del viola e blu notte bellissimo fantastico ed esce un mix di celeste scuro comunque quello che vedi sui miei occhi e lo andiamo ad applicare all'estremità dell'occhio picchiettando prima e poi tiriamo e stendiamo verso l'esterno e con movimenti circolari 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 sfumiamo 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 e tiriamo verso l'esterno sfumiamo 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 poi prendiamo quest'altro pennellino super fluffy un po più lungo e più grande che si chiama precision soft crease e facciamo un mix di questi due splendidi scimmerini azzurro e lilla blu facciamo un mix e lo mettiamo sotto l'argata sopraccigliare tra tutta la sfumatura che abbiamo creato e l'argata sopraccigliare e lo andiamo a sfumare così molto 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 leggero con movimenti così per andare a illuminare la zona dell'arcata sopraccigliare e poi facciamo circolare ecco 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 qui bellissimo già sta uscendo un capolavoro adesso è rimasto soltanto il punto luce fantastico con il mio dito con il medio vado a prelevare questo fantastico punto luce tra il panna e con qualche all'interno brillantino azzurrino molto chiaro vado ad applicarlo sulla nostra crease all'interno del tutto lacrimale e all'interno dell'occhio sulla nostra crease appunto vado prima a picchiettare e poi stendiamo bellissimo bellissimo dimenticavo un passaggio con quello che è rimasto sul pennello quando abbiamo usato questo colore scuro andiamo a metterlo sotto la rima infragiliare per dare profondità allo sguardo e per completare il make up ok adesso per tagli un tocco giù adesso mi è andata via mettiamo all'interno questa matitina nera all'interno della nostra rima infragiliare all'interno del nostro occhio vieni che con questo ti apro l'occhio è tocco anche l'altro in sinistro tocco 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 facciamo più di una passata perché se no va via ovviamente l'occhio all'interno è bagnato e quindi la matita tende sempre a consumarsi rispetto all'esterno completiamo il nostro look con il mascara e il gloss però mettiamo prima il nostro mascara che fa un suono strepitoso ciccac 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 up 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 occhio destro ciccac ciccac up 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 un po' anche sulle riso un po' anche sulle ciglia inferiori Tic tac, tic tac, up, up, up Tic tac, tic tac, up, up Pasiamo all'occhio sinistro Tic tac, tic tac, up, 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 un po' sotto Perfetta Sei bellissima Andiamo a completare il make-up con il nostro gloss Sempre della Revolution, adoro Io adoro il marchio Revolution, è fantastico Cruelty free e stupendo, super pigmentato, bellissimo Poi il suono del gloss è qualcosa di meraviglioso Meraviglioso Grazie a tutti Ok, andiamola ad applicare Prima facciamo il nostro cuoricino Arco di cupido Poi il nostro labbro inferiore Di nuovo arco di cupido e labbro inferiore Arco di cupido e labbro inferiore Arco di cupido e labbro inferiore è bellissimo è fantastico ok tesoro sei perfetta perfettissima spero che il make up ti sia piaciuto guardati allo specchio bellissimo vero? sono contenta che ti piaccia felicissima ma sappiamo che ti sarebbe piaciuto ti adoro grazie per avermi scelta grazie che adori i miei video e adori il mio modo di truccarti in maniera rilassante 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 quindi ci vediamo la prossima non mancherò con altri trucchi per te e per far rilassare te e i miei telespettatori video spettatori le mie ciambelline e ciambellini adorati a cui mando un forte bacione perché loro si staranno godendo questo video come te e questo make up come te lo sei goduto tu quindi ciao Lara ciao Lara ciao tesoro mio ci vediamo al prossimo video ci vediamo al prossimo make up e al prossimo video smr super super rilassante ciao amore mio ciao un big kiss per te ciao 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 ciao